il personaggio che interpreti pensi ti assomigli bottom l'hanno scritto per me shakespeare quando l'ha pensato ha avuto una proiezione di me mi definisci il tuo personaggio in tre parole cacciarone idealista sognatore qual è la battuta del tuo personaggio che preferisci e perché la battuta che mi piace di più è una cosa quando mi rivolgo ai musicisti chiedendogli reggin rocks e io mi faccio il duetto con il maestro ferruccio spinetti e la maestra pedra magoni per dire siamo troppo un trio fino ad oggi qual è il sogno che hai realizzato e quale ancora no ma dirò una banalità ma il sogno realizzato è che faccio di lavoro quello che farei comunque anche se non mi pagassero quindi stare sul palco e godere della gente e quello che devo ancora realizzare di stare tanto sul palco ancora tanto 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 se avessi a disposizione il fiore di cupido chi faresti innamorare di chi farei innamorare qua mi comprometto pietra magoni di bottom o meglio scusate pucca di bottom avevi mai recitato shakespeare prima d'ora e ti sei sentito a tuo agio recitandolo non ho mai fatto shakespeare e mi sento molto a mio agio perché avendo intrapreso questo lavoro ho iniziato a leggermi un po le opere di shakespeare e devo dire che è molto vicino ai comici molto molto vicino perché il pubblico dovrebbe venire a vedere lo spettacolo ma semplicemente perché si imparano cose divertendosi cioè si imparano si impara ad ascoltare un'opera di shakespeare di cantata recitata da delle persone che sono molto vicini alle persone che sono in sala quale aspetto del tuo personaggio vorresti fare tuo nella vita ma sono uguale sono praticamente uguale bottom ha un carattere esuberante e partecipativo che è un po il mio carattere forse giovele quando ha pensato a bottom e ha pensato a me probabilmente ci ha visto più lungo di mia madre qual è il ricordo più bello che ti rimarrà di questo sogno sicuramente il gruppo io non ho mai lavorato in compagnia ho sempre lavorato in duo e devo dire che mi spaventava all'inizio perché non è facile dopo 15 anni di duo provare un'esperienza di compagnia ma invece è stato molto divertente ed è la cosa che in assoluto mi porterò dietro ovvero la socialità che crea il teatro quale altro personaggio di shakespeare vorresti interpretare? ma sicuramente vorrei fare, mi piacerebbe fare Calibano, il mostro della tempesta per fare mio perché adoro mostrificarmi in scena ciao a tutti B8M ecco qua chi sei? sono Nino ma con tutti i posti che c'erano proprio qui davanti alla mia tomba dovevo dare l'appuntamento adesso basta 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 l'ultimo basta basta e dai già dobbiamo fare questa pagliacciata ti metti anche a fare l'imbecille